A prima vista, può sembrare solo un coniglietto scappato da una fattoria, magari in cerca di qualche carota, ma in realtà è una lepre. Timida, veloce e attenta. Uno splendido mammifero selvatico. Preferisci andare a mangiare l'erba la mattina presto e al tramonto? Anche per questo facciamo fatica a vederla. Ma stai pur certo che se guardi bene, nei posti e nei momenti giusti, ne puoi vedere una proprio nei campi, vicino a casa tua. Misura dai 60 agli 80 cm, il tutto più o meno quanto è lungo un banco a scuola. È alto la terra, circa 30 cm, 4.000 e pesa dai 3 ai 6 kg, più o meno quanto pesa lo zaino alle elementari. Le zampe posteriori sono più lunghe di quelle anteriori, per permetterle di essere più veloce e scattante. Il pelo è giallo-marrone, grigio, sul dorso, mentre il ventre è bianco-grigiastro. Possiede due grandi orecchie, lunghe 15 cm, più o meno quindi metà dell'altezza della lepre, come se le tue orecchie fossero metà di te. Già le nostre si raffreddano molto, le loro, così grandi, rischiano di congelarsi. Non potendo mettersi il barretto, la lepre ha deciso di colorare la punta delle orecchie di nero, per catturare più facilmente i raggi del sole e quindi scaldarsi un po'. Durante il giorno sta al sicuro, riparata tra l'arba alta, dentro qualche cespuglio o i margini del bosco. Non scava buche, ma rimane nascosta in un piccolo avvallamento del terreno. Può raggiungere velocità superiore ai 60 km orari. Grazie alla sua velocità deve temere solo pochi predatori. L'aquila, la lince, il lupo, l'astore, la volpe e ovviamente l'uomo. Non formano una coppia fissa. I maschi fanno vere e proprie lotte tra loro per conquistare le femmine e questi combattimenti talvolta si trasformano in violente risse, con colpi di zanne, morsi, salti. Questo avviene soprattutto nel mese di marzo. In questo periodo i maschi sono talmente presi dall'amore che sono molto poco attenti, diventando quindi facci di prede. Da qui nasce il detto anglosassone, pazzo come una lepre a marzo. Il personaggio del bianconiglio, presente nel libro Alice nel Paese delle Maraviglie, che in inglese viene chiamato lepre marzolina, è ispirato proprio a questo. La femmina può iniziare una nuova gravidanza prima di partorire, quindi risulta molto produttiva. Riesce a portare a termine fino a 3 gravidanze all'anno, partorendo da 1 a 6 piccoli a volta. I leprotti riescono a muoversi a poche ore della nascita. Trascorrono la maggior parte del tempo nascosti vicino al rifugio materno, in attesa che la femmina torni per allattare. Sono mammifari, proprio come te. Se no lepre si spaventa, fugge saltando. Quando il sole tramonta, va alla ricerca di cibo. In estate, erba, frutti, funghi. In inverno, erba secca e cortecce. Riuscire a trovare energia mangiando erba o cortecce non è certo facile. Avrebbe bisogno di un apparato digerente molto lungo, come quello di una mucca ad esempio, ma è troppo piccola per poterselo permettere. Quindi fa fare il giro al cibo due volte. Fa quindi due tipi di escrementi. I primi vengono rimangiati per permettere all'intestino di concludere l'assorbimento, producendo così il secondo tipo di feci. Bugs Bunny ha rovinato un po' l'idea dell'alimentazione delle lepri. Di certo non mangia solo carote, non è però l'unica lepre presente nei cartoni animati. C'è Tamburino, di Bambi, la lepre, della tartaruga, Saetta, di Robin Hood, Coniglio, di Masha e Orso, Roger Rabbit, Tappo, di Winnie Vepoo. Alcune sono lepri, altre sono conigli, ma ai cartoni è concesso tutto. Adesso non ti resta che aspettare il tramonto, magari dopo un bel temporale estivo. Sederti in silenzio ai margini di un prato, immobile. Cercare le punte nere delle orecchie della lepre, far capolino tra l'erba.